E se vi dicessi che ho vissuto due ore da vip allo stadium? Una volta arrivati allo stadium per la partita tra Juventus e Frosinone, abbiamo salutato il presidente, Supermax e tutti i calciatori, poi subito pronti ad entrare in hospitality. Ragazzi siamo dentro e ora ci si mette il braccialetto. Una volta messo il braccialetto le hoste super gentili dello stadium ci hanno accompagnato al nostro tavolo. Prego. Com'è il marito? È buono. Giulio, quindi com'era questo antipastino? Molto buono. Può aver finito l'aperitivo con gli altri ospiti di Socios.com e aver fatto la prediction del match direttamente dall'app, ci hanno direttamente accompagnato nella nostra vip box privata. Questi qui erano i posti a sedere, guardate che vista. Ragazzi è impressionante, bellissimo. L'atmosfera dello stadium vissuta qui dallo skybox di Socios è qualcosa di incredibile. Sentite lo stadio. Partita tesa e fine, primo tempo con un risultato bloccato sul 2 a 2. Ma noi non ci perdiamo d'animo e mangiamo sempre. Com'è? Buono. Partita resta bloccata fino all'ultimo con un Chiesa fischiato durante la sostituzione. Ma all'ultimo secondo del match... È letteralmente esploso lo stadio. Ragazzi vi giuro è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Grazie Socios per la bellissima esperienza. Il grazie più grande va a tutti voi che mi supportate sempre. Vi voglio bene.